L'arte di Jean-Michel Basquiat si supera. Quotato in partenza a 50 milioni di dollari, il dipinto dal titolo In This Case è stato venduto all'asta da Christie's per oltre 93 milioni. Il grande teschio, dipinto nel 1983, era stato acquistato dal collezionista Giancarlo Giammetti, che lo aveva esposto nell'attico vista a Central Park, dove venne catturato da uno scatto pubblicato dalla rivista Architectural Digest. È uno dei tre teschi che Basquiat ha realizzato nel corso della sua carriera. Molta della produzione artistica che vediamo oggi non sarebbe potuta esistere senza un gruppo di artisti che ha cambiato il dialogo intorno all'arte e penso che uno di loro sia Jean-Michel Basquiat. Basquiat è sempre stato una star del mercato dell'arte. A metà degli anni Ottanta, l'artista guadagnava 1 milione e 400 mila dollari l'anno. Un personaggio eclettico, reso vulnerabile dalla sua dipendenza dall'eroina, di cui morì nel 1988.